Comunque, ad oggi, posso dire che le cose non siano andate come forse speravo, come volevo. Premetto che tutto ciò che abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto né per hype, né per far aumentare follower, anche perché ho messo così talmente poche storie, perché comunque volevo vivermi, sono molto riservato. Insomma, comunque, quando ho una relazione, o comunque quando sto frequentando una persona, non mi va di metterlo su Instagram, su piazza subito, perché sono riservato almeno su questo. Comunque, ad oggi, no, non ci stiamo frequentando. Questo, a dire la verità, l'ho detto più volte. Comunque, sono due mie qualità, ossia la semplicità e l'umiltà. Nel carattere di una persona, soprattutto a 30 anni, si può forse adattare, modificare, ma cambiare totalmente no. Quindi, impossibile ciò che anche questo accada. Grazie mille per i complimenti. Non mi sono mai reputato, non mi alloggio mai, però vedendo comunque tutti i commenti, le domande, i direct, mi fa davvero piacere che tutti voi la pensate, insomma, così. Grazie, davvero. Sono contento di essere riuscito a trasmettere tutto questo. Ti mando un bacio, grazie. Sinceramente, sì, l'ho vista anche prima di tutti voi, in diretta quasi. Ho visto dove ci aveva a mano. E niente, l'ho visto. Ormai, acqua passata. Allora, momentaneamente non vedo nessuna ragazza. Preferisco pensare solo a me stesso, ad oggi, ad adesso. Però no, mi priverei comunque di nulla, perché non fa proprio parte del mio carattere questo.